Covid, il 18% dei vaccinabili in ASL4 non ha ricevuto neppure la prima dose, proseguono le campagne di sensibilizzazione. A Casarza Ligure la candidata numero 3 sulla lista elettorale è Germana Perego, motivata a scendere in campo da una squadra rappresentativa del territorio e desiderosa di fare bene. Nell'udienza generale il Papa si è concentrato sul tema della giustificazione, Cristo ci ha salvato gratis, ha spiegato, la risposta deve vederci tutti attivi nell'amore per Dio e per il prossimo. Cresce il numero dei nuovi poveri, il bisogno di cibo e casa non è più periferico, avverte la comunità di Sant'Egidio, la crisi impone un nuovo metodo di accompagnamento e di cura. L'importanza del servizio delle pubbliche assistenze vicino ai cittadini è fondamentale nell'emergenza e alla festa della Croce Bianca Rappallese si fa il punto sul lavoro svolto negli ultimi tre anni. Un parroco originario dell'Africa e un famoso DJ radiofonico uniti dalla passione per la Bibbia, dialogo tra Don Siriac Vigirimana e Diego Passoni sul sagrato della chiesa di Masso in Val Petroni. Buonasera a tutti, ben arrivati a Tiguglio. Oggi in primo piano anche ancora i vaccini anti-covid. Il 18% della popolazione vaccinabile nel territorio dell'Asl4 non ha ricevuto nemmeno la prima dose. Per questo continuano le iniziative per allargare le possibilità di accedere al vaccino e al tempo stesso per sensibilizzare le persone spaventate o indecise, che sono ancora molte. Abbiamo raccolto le testimonianze di due infermiere che hanno contribuito con il loro lavoro alla campagna vaccinale itinerante I Viaggi di Gulliver. E abbiamo sentito su questo anche il direttore generale dell'Asl4, Paolo Petralia. Io ho avuto esperienza nei primi reparti Covid marzo 2020 dove era disperazione, c'era paura. Ci chiamavano eroi ma dall'altra parte ci facevano sentire un po' sporchi. Passatemi questa idea, avevamo comunque una folle, personalmente una folle paura di rientrare in casa, di rientrare a casa. Perché comunque per la nostra famiglia è stata dura. Nell'animo di ognuno di noi è cambiato qualcosa, questo sicuramente. Dopodiché finalmente il vaccino. Ecco, per noi è stata una luce in fondo al tunnel questa. Anche per noi e per i nostri familiari. Finalmente potevamo riabbracciare, riavvicinarci ai nostri cari. Io vi posso solamente dire che ho voluto per me stessa questo vaccino. Nel momento in cui mi diranno fai la terza dose, la farò. E nel momento in cui i miei familiari si sono vaccinati, io ho sentito il peso che avevo sullo stomaco a non averlo più. Io sono entrata nella battaglia Covid, nelle vaccinazioni, a partire da febbraio 2021. È stata un'esperienza fantastica, ho conosciuto tantissime persone e tutte mi rimarranno nel cuore. Abbiamo vaccinato anche ragazzi molto giovani. Sono molto contenta che le persone giovani abbiano contribuito con la loro vaccinazione ad aiutare sia a se stessi ma ad aiutare anche tutti gli altri. Io ho trovato giovani molto entusiasti di questo vaccino. Hanno visto la possibilità di vaccinarsi come una possibilità collettiva di uscire da questa pandemia. Ma abbiamo fatto mille iniziative e continueremo a farle. Da quelle più formali, gli open night, gli open day, l'accesso libero alle prenotazioni, piuttosto che all'opera di riflessione insieme. Perché nel rapporto interpersonale si costruisce poi il convincimento. Noi sappiamo che oggi le persone non si chiamano soltanto, qualcuna sì, soltanto Novax. Si chiamano anche esitanti. Cioè persone che hanno bisogno di un colloquio, di un ragionamento, di coltivare un percorso per arrivare a una decisione. Noi a quelle ci rivolgiamo, mettendoci a disposizione in queste esperienze di prossimità per cercare proprio di facilitare la loro comprensione e poi la loro decisione libera sul vaccinarsi o meno. Intanto di oggi i dati di Alisa con 95 nuovi casi di positività al Covid in Liguria a fronte di 3.736 tamponi molecolari. Cala ancora il numero dei ricoveri che oggi sono in tutto 59 di cui 8 in terapia intensiva. In Asle 4 i nuovi contagi sono 5, le sorveglianze attive 114. C'è una persona ricoverata in più nel reparto Covid di Sessilevante dove gli ammalati sono 2. Per quanto riguarda la vaccinazione, la Liguria è all'87% del consegnato. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate poco più che 4.663 dosi, di cui 309 in Asle 4. La Liguria ha stanziato anche 2.300.000 euro per l'inserimento del nuovo vaccino ricombinante anti-herpes Zoster nell'offerta prevista dal calendario vaccinale regionale per garantire la copertura pari almeno al 50% della popolazione target. Il vaccino è raccomandato per i 65 anni con offerta attiva, soggetti over 50 con specifici fattori di rischio, pazienti immunocompressi. Viene inoltre mantenuto il diritto alla vaccinazione per le persone nate prima del 1956 con il vaccino disponibile al momento a chiamata attiva. Completiamo oggi la rassegna sui candidati a sindaco alla competizione elettorale per Casarza Ligure. I casarzesi sono chiamati a rinnovare il Consiglio Comunale nelle elezioni del 3 e del 4 ottobre. La candidata numero 3 sulla lista elettorale è Germana Perego, sostenuta da Prospettiva Civica per Casarza Ligure, 52enne medico con specializzazione in neurologia, ha messo insieme una squadra rappresentativa del territorio motivata a far bene per il prossimo quinquennio. La candidata numero 3 sulla lista elettorale di Casarza Ligure è Germana Perego. Nata a Chiavari il 28 novembre 1969, è laureata in medicina con la specializzazione in neurologia. Svolge attività come dirigente medico dell'ASL 4 in ambito neurologico. Sposata è mamma di un figlio. Nel tempo libero si dedica all'escursionismo, alle letture, giardinaggio e viaggi. Non ha precedenti esperienze amministrative. Alle elezioni 2021 si candida a sindaco, sostenuta dalla lista Prospettiva Civica per Casarza Ligure. Sono 22 anni che mi prendo cura delle persone. A 52 anni ho deciso di scendere in campo intanto perché mi sento pronta ad affrontare questa sfida e poi perché ho trovato una squadra in cui mi vedo rispecchiata. È una squadra composta da persone che provengono da tutte le frazioni del paese, che hanno una visione differente per diverse strade che hanno preso durante la loro vita, rappresentano diverse fasce d'età dai 24 ai 72 anni e mettendo insieme la diversità secondo me si dà un valore aggiunto. Noi rappresentiamo la novità, rappresentiamo la prima esperienza politica. Anche questo secondo me può essere un vantaggio. Dateci fiducia e vedrete che insieme realizzeremo i nostri sogni. Avanzano a chiave i lavori previsti per la realizzazione dello scolmatore delle acque meteoriche di Largo Ravenna, un intervento necessario per la mitigazione del rischio idraulico e per scongiurare i rischi allagamenti nel centro storico. La spesa prevista è dei 378 mila euro. Questa mattina all'interno della banchina del porto è stata posata la struttura in cemento armato, lunga 4 metri installata ad una profondità di 2, che avrà la funzione di raccogliere le acque provenienti dal canale primario di Corso Colombo. Il prossimo passo sarà la creazione di un bypass tra i due canali, quello di Corso Colombo e quello di Corso Gallivaldi, per evitare squilibri tra le due portate dei condotti. E da Chiavari ci trasferiamo a Nè. Il Comune ha indetto un bando per la concessione di un contributo a coloro che devono far fronte al canale di locazione 2020. Vediamo la notizia anche attraverso il nostro sito teleradiopace.com. Un bando rivolto a soggetti con contratto di locazione regolarmente registrato, ad uso abitativo prima casa, aventi un ISEE inferiore a 16.700 euro. Si può presentare la domanda dal 4 ottobre al 12 novembre telematicamente attraverso il sito istituzionale del Comune di Nè www.comune.ne.g.it oppure rivolgendosi all'ufficio dei servizi sociali del Comune dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 o il mercoledì dalle 15 alle 17. È stata inoltre prorogata l'11 ottobre la scadenza per richiedere i buoni alimentari e emergenza Covid-19 finalizzate all'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. È previsto poi per la fine del mese di ottobre un ulteriore bando a sostegno del pagamento delle utenze domestiche. Apriamo ora la pagina ecclesiale con l'udienza generale tenuta questa mattina da Papa Francesco in Aula Paolo VI. Per questo il Papa ha affrontato il tema della giustificazione. L'amore di Cristo ci ha salvati tutti gratis, ha spiegato il Papa. La risposta deve vederci attivi nell'amore per Dio e per il prossimo. Altrimenti la giustificazione senza le opere sarà lì, sottoterra, come morta. Sentiamo un passaggio della Catechesi. Noi davanti a Dio siamo giusti. È vero, abbiamo i nostri peccati personali, ma alla basse siamo giusti. Introduce così Papa Francesco la Catechesi dell'udienza generale dedicata al tema della giustificazione, un argomento tanto discusso per trovare l'interpretazione più coerente. Cosa si nasconde dietro alla parola giustificazione che è così decisiva per la fede, chiede Francesco, che partendo dal pensiero di San Paolo la definisce come conseguenza della misericordia di Dio. Lui perdona e la giustificazione è Dio che perdona dall'inizio a ogni due, in Cristo. La misericordia di Dio che dà il perdono. Attraverso la morte di Gesù Dio distrugge il peccato e dona in maniera definitiva il perdono e la salvezza. La giustificazione è che Dio opera, pertanto ci permette di recuperare l'innocenza perduta con il peccato. Come avviene dunque la giustificazione? Solo per grazia. Noi siamo stati giustificati per pura grazia. Ma io non posso, come fanno qualcuno, andare da giudice e pagare perché mi dia giustizia. No, in questo non si può pagare. Ha pagato uno per tutti noi, Cristo. E da Cristo che è morto per noi viene quella grazia che il Padre ci dà tutti. Il Papa richiama quindi l'insegnamento dell'Apostolo Giacomo, secondo il quale l'uomo è giustificato per le opere, non solo per la fede. La forza della grazia ha bisogno di coniugarsi con le nostre opere di misericordia, che siamo chiamati a vivere per testimoniare quanto è grande l'amore di Dio. Andiamo avanti con questa fiducia. Tutti siamo stati giustificati, siamo giusti in Cristo. Dobbiamo attuare quella giustizia con il nostro operato. Grazie. E al termine dell'udienza il Papa ha rivolto un appello per la Nigeria o ha preso con dolore la notizia degli attacchi armati avvenuti domenica scorsa nei villaggi di Madamaya Abun nel nord della Nigeria, ha detto Francesco prego per coloro che sono morti, per quanti sono rimasti feriti e per l'intera popolazione nigeriana auspico che sia sempre garantita nel paese l'incolumità di tutti i cittadini. A conclusione della fase diocesana di beatificazione dei servi di Dio Alberto Michelotti e Carlo Grisolia venerdì 8 ottobre il vescovo Marco Tasca presiderà la celebrazione eucaristica nella chiesa dell'Immacolata a Genova. Alberto e Carlo sono due amici genovesi uniti tra loro dalla comune appartenenza al movimento dei focolari e dal desiderio di portare a tutti il dono dell'ideale evangelico del mondo unito scegliendo la via di farsi santi insieme. Alberto Michelotti è un ragazzo intelligente molto dotato che ama mettersi al servizio degli ultimi. Carlo Grisolia, innamorato della montagna, cade il 18 agosto del 1980 durante una rampicata in un canalone ghiacciato sulle Alpi Marittime e muore all'età di 22 anni. Carlo Grisolia, diplomato in agraria, viveva nello stesso quartiere di Alberto. Mentre prestava servizio militare, viene diagnosticato un tumore tra i più maligni che lo condurrà alla morte avvenuta il 29 settembre 1980 all'età di 20 anni. Durante l'evolversi della malattia, Carlo dice di avvertire la presenza dell'amico Alberto al suo fianco a sostenerlo come sempre. Conclusa l'inchiesta diocesana iniziata nel 2005, gli atti di questa prima fase verranno presentati alla Congregazione delle Cause dei Santi a Roma. Venerdì 8 di ottobre la cerimonia diocesana di chiusura della causa di beatificazione inizierà nella Chiesa dell'Immacolata alle 16. Alle 18.30 la messa preseduta dal Vescovo Tasca. Emergenza alimentare, abitativa e relazionale. La pandemia ha causato un aumento nel numero delle persone in difficoltà economica, tra queste persone senza fissa dimora ma anche tante famiglie. Molti di loro si sono sentiti abbandonati e hanno patito grosse difficoltà. Il tema è stato affrontato dalla comunità di Sant'Egidio a Rapallo, tra i redattori Maurizio Scala della comunità di Genera. 5,6 milioni di persone in Italia vivono in povertà assoluta. Siamo al 9,4% di popolazione sotto la soglia di indigenza e 1,3 milioni di bambini non hanno nulla. È un'onda lunga che non si ferma, è il commento amaro della comunità di Sant'Egidio. Maurizio Scala, parlando a Rapallo, ha messo sul tavolo tre riflessioni. La prima è che oggi il reperimento del cibo in Italia è un problema di fronte a 800 mila persone che frequentano 2.800 mense. Il tema della fame, dice Scala, non è più una questione periferica. La crisi pandemica inoltre ha creato nuovi poveri. Anziani soli, giovani con mutui, famiglie monoreddito, donne single con figli, precaricano, perso il lavoro, disabili che ricevono pochissimo come contributo di invalidità. Oggi, segnala la Sant'Egidio, ci sono 7 mila sfratti esecutivi bloccati che interessano 20 mila persone. Un problema che investe tante famiglie semplici e che non sembra avere margini di miglioramento. Dove andranno, è la domanda. Fame e casa, dunque. La seconda riflessione riguarda i poveri che vivono in strada. In Liguria ce ne sono 1200, 800 a Genova, di cui 150 letteralmente in strada. I loro bisogni non sono solo materiali, riflette Scala. È sempre più emergente il bisogno di tornare in mezzo a loro e ascoltarli. Durante la pandemia si sono sentiti soli e abbandonati. L'appello della Sant'Egidio è per le associazioni del terzo settore, tornare sul territorio, tra i poveri, ma anche per le istituzioni, comune e asle in primis. Perché non si fanno tentativi per portare la sanità da loro? Nell'emergenza Covid sono rimasti abbandonati e molti sono morti, senza cure. Perché la burocrazia blocca alcuni passaggi e rende difficili operazioni sulla carta semplici? Don Stefano Curotto, arciprete di Rapallo, per esempio, ha ribadito le difficoltà nel far riavere loro la residenza. L'ultima riflessione è quindi sulla necessità dell'accompagnamento. Non basta più dare una casa o un piatto caldo. La domanda è chi si può far carico di tutte queste persone, senza fissa dimora, o famiglie in difficoltà. Ileana Corea, della consulta rapallese del volontariato, si è data disponibile a formare un tavolo di lavoro per analizzare la sfida e studiare nuove strategie. Oggi festa dei Santi Arcangeli, a Rialto è stata celebrata la festa di San Michele, titolare della parrocchia. Vediamo la notizia sul nostro sito. La comunità parrocchiale di Rialto ha festeggiato il santo titolare. La messa pomeridiana è stata presieduta dal vescovo Giampio De Vasini, che ha preso spunto dalla figura di questo santo arcangelo. Gli angeli, ha detto il vescovo, sono come una linea wifi tra cielo e terra, perché non si vedono ma ci sono. Il vescovo ha poi concluso, se scelgo di crederci, sarà accompagnato da una certezza che dona luce e forza. Sviluppo green e sostenibile del territorio, servizi sociosanitari, valorizzazione del patrimonio naturalistico-culturale e rigenerazione urbana, digitalizzazione dei processi amministrativi, formazione per il personale degli enti locali. Sono questi gli ambiti nei quali si trova ad agire la nuova struttura di Anci Liguria, dedicata allo studio e alla progettazione concreta delle opportunità derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per gli enti pubblici locali. La Task Force, coordinata dal direttore generale dell'Associazione Pierluigi Vinai, avrà come obiettivo il confronto sotto il profilo tecnico con gli uffici ministeriali, regionali, enti locali e soggetti istituzionali, con le strutture della sanità e del digitale per pianificare percorsi di progettazione sul territorio. È stato un triennio complicato in cui il servizio delle pubbliche assistenze ha mostrato la sua importanza. Alla festa della Croce Bianca di Rapallo, i premi per i volontari e una riflessione sull'importanza del lavoro svolto dal 2018 a oggi. Non è una festa di fine anno perché il servizio delle pubbliche assistenze non va mai in vacanza. L'evento organizzato dalla Croce Bianca di Rapallo per premiare i volontari è stata invece l'occasione per ritrovarsi insieme e tirare le fila del lavoro svolto nell'ultimo triennio. Periodo segnato da emergenze eccezionali, dalla caduta del Ponte Morandi, alla mareggiata sul Tigoglio Occidentale, fino all'emergenza Covid, questa non ancora risolta. Una bella festa, una festa dei nostri ragazzi, giovani e meno giovani, dei volontari che hanno fatto in questi ultimi tre anni cose bellissime, nella drammaticità degli eventi perché purtroppo noi interveniamo sulle situazioni drammatiche. Il maltempo il domenica ha fatto saltare la dimensione di piazza della festa che si è dovuta svolgere all'Hotel Europa. Ospite della serata, il virologo Fabrizio Pregliasco, presidente nazionale di ANPAS, l'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e rappresentanti delle istituzioni. In totale sono stati 150 riconoscimenti consegnati in parte in forma privata e in parte alla cerimonia. Due speciali sono stati dati ai soci benemeriti, il dottor Riccardo Sacchetti e Bruno Sanguinetti. Io ho lavorato con la Croce Bianca anche quando lavoravo in ospedale per i trasporti, perché li accompagnavo io i trasporti malati acuti, perché quando venivo da Genova dicevo ma no, poi portano i malati da soli, da soli non si lascia i malati, si portano e si trasportano. Presenti anche le altre consorelle, compresa la sezione di Mezzanego. Oltre ai premi è stato il momento per ripercorrere alcuni momenti degli ultimi tre anni. Il presidente Mustorgi ha ricordato la messa di maggio celebrata sul piazzale e sulla scalinata del santuario di Montallegro. Credetemi, è stato un momento particolarissimo, perché eravamo, come dire, stravolti, consentitemi il termine, da un periodo difficile ed essere a Montallegro, ed essere tutti insieme, ci ha ridato la carica. La fede è la parola della Bibbia come strumento di incontro e di condivisione anche tra storie personali molto diverse tra loro. Un esempio concreto di tutto ciò è andato in scena sabato sera nel sagrato della piccola chiesa di Masso in Val Petronio. Davanti ad un pubblico attento e molto numeroso hanno dialogato il parroco, Don Siriac Biggirimana, e il DJ, conduttore radiofonico e televisivo, Diego Passoni. Sentiamo. Cosa ha comune un sacerdote di origine burundese, Don Siriac Biggirimana, parroco di alcune comunità della Val Petronio, e un DJ, ballerino, conduttore televisivo e radiofonico come Diego Passoni? La risposta non è scontata ed è la Bibbia. La scoperta della parola di Dio, le domande che le sue pagine risvegliano nella vita di ciascuno più o meno credente, questo è il filo conduttore del dialogo che è andato in scena sulla piazzetta della chiesa di Masso di Castiglione Chiavarese, dove i due hanno provato a raccontare la propria personale esperienza di fede, dalle radici culturali e geografiche distantissime ma accomunate dal cammino di ricerca. Il mio primo contatto è stato soprattutto quando ho cominciato per il catechismo, avevo nove anni, dieci anni, un entusiasmo che mi veniva dal dentro, senza neanche sapere giustificare a quell'età lì. E comunque questa passione è rimasta, la scrittura per me è fonte di ispirazione. Stavo parlando a me, era un po' come quella roba, ehi, tu, 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 tutti i giri, sì sì, sto parlando con te. E poi la vita ti distrai, ti perdi, quindi il mio rapporto con la scrittura è stato questo, un continuo a girare intorno per cercare quello di cui ho bisogno e poi dire, Madonna, ma fammi andare là, dove ci sono quelle parole, e quindi poi andare a ricercarle e provare a ricreare quel silenzio in cui quelle parole lì le puoi risentire, no? E ti possono riparlare. A far incontrare queste due storie un giornalista da poco residente nel Tiguglio e parroco di Don Siriac. Seguo Don Siriac da fedele e lo seguo con attenzione e sono stato molto stimolato dalle sue omelie. E quando ho capito che poteva essere messo in contatto con persone che si rivolgono attraverso altri media, non il pulpito delle omelie, ma ad esempio la radio, ho così pensato che potesse essere messo in contatto ad esempio con Diego Passoni, conduttore della trasmissione Pinocchio su Radio DJ. Mi è sembrato in qualche modo naturale che si incontrassero e ho anche creduto che l'incontro potesse interessare le persone. Un sagrato così pieno mi ha fatto ovviamente piacere e spero che sia solo la prima di nuove occasioni. Sono aperte le iscrizioni al progetto Policino Art in Bosco dedicato a bambini dietro a compresa tra i 20 e i 36 mesi che si svolgerà all'asilo Nido Soracco di Chiavari. Quattro incontri all'aperto nei martedì di ottobre dalle 16.15 alle 17.15 durante i quali i bimbi accompagnati dai genitori potranno interagire con elementi naturali, sviluppare la propria creatività, concentrazione e socialità attraverso attività manuali di gioco. Per prenotare è necessario rivolgersi al personale dell'asilo comunale, compilare e consegnare un apposito modulo entro il 1 di ottobre. Il rapallese Massimiliano Siragusa è stato nominato comandante dell'imbarcazione Amerigo Vespucci, la nave che nel 1962 è stata definita la più bella del mondo dalla porta aerea americana Independence. Oggi pomeriggio il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, ha fatto visita al neocomandante complimentandosi per il traguardo raggiunto. L'incontro è avvenuto sotto bordo della nave, che in questi giorni si trova al porto militare di La Spezia in occasione della manifestazione Sea Future. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Totti ha incontrato l'ambasciatrice della Finlandia in Italia, Pia Rantala Engberg. Al centro dell'incontro i temi della ripresa del turismo in Liguria, i settori più rilevanti per la cooperazione economica tra Liguria e Finlandia, in particolare portualità, logistica, high-tech, innovazione e digitalizzazione. L'ambasciatrice ha ricevuto in dono dal presidente la bandiera ufficiale di Regione Liguria. Ora vediamo gli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda di giovedì 30 settembre. Nel locale La Sciamada dei Vinaceri Ballerini in Sestilevante è ancora possibile visitare la mostra personale di pitture di Francesco Cassanelli intitolata Noibat Frank. Le opere propongono vari scorci e paesaggi del Tiguglio. Si può accedere all'esposizione negli orari di apertura del locale, tutti i giorni, dalle 8.30 alle 23. Proseguono a Sestilevante le mostre dedicate a Carlo Bo, La Memoria, Vivi a Sestilevante e Il Palazzo Ducale, Parole e Immagini nelle Stanze, allestita al Piano Terra e nella Sala Diccio in Piazza Matteotti. Si potrà visitare fino al 3 ottobre, il giovedì, dalle 8.30 alle 13. All'attore civica di Chiavari è esposta alla mostra Querello a Chiavari Watercolor Inspiration. Si può visitare dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. A Santa Margherita Ligure è prima giornata del progetto Superba Superando le Barriere, che coinvolge giovani da vari paesi europei per parlare di inclusione ed accessibilità. Dalle 15 alle 17 a Villa San Giacomo ci sarà l'incontro intitolato Lo sviluppo comunitario e l'inclusione dei giovani con disabilità. A Genova primo concerto del ciclo autunno a Spinola con il violino di Paola De Lucchi e il pianoforte di Albert Lau alle 16.30 nella Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. I vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti oggi a Zoagli verso mezzogiorno per spegnere un principio di incendio che ha interessato una baracca nella zona di Via dei Tessitori. Non ci sono stati feriti, lo spegnimento è avvenuto senza problemi in quanto i proprietari avevano già cercato di tenere sott'occhio le fiamme. Un uomo di 40 anni pregiudicato e senza fissa dimora è stato denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio a bordo di un treno diretto a Genova. Mentre si trovava all'altezza di Moneglia ha iniziato a molestare i passeggeri il capotreno. È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine che alla stazione ferroviaria di Sestri Levante hanno fatto scendere il soggetto e lo hanno identificato e denunciato. Parliamo ora di sport. La squadra femminile over 20 della società Arceri del Tigullio ha vinto la medaglia d'oro e il titolo di campione d'Italia alla quattordicesima edizione del campionato italiano specialità 3D che si è svolta ad Irpiglia. La squadra era composta da Cinzia Noziglia e Monica Finesi, Luana Bassi. Nella stessa competizione la squadra over 20 maschile è giunta al quinto posto con Davide Vicini, Fabio De Ponti e Antonio Massuccio. Nelle finali, Michaela Godano ha conquistato il titolo di campione italiano arco under 20, mentre si sono aggiudicati la medaglia d'argento Alessio Noceti nell'arco nudo over 20, Davide Vicini arco istintivo over 20, Luana Bassi arco long bow over 20. Da segnalare anche il titolo di campionessa italiana 2021, delle componenti della squadra femminile degli Arceli, Cinzia Noziglia all'arco nudo over 20 e Monica Finesi all'arco compound over 20. E concludiamo con uno sguardo alla situazione autostradale, intanto con gli aggiornamenti che arrivano dall'Ansa Liguria, perché anche oggi è stata una giornata difficile sulle autostrade Ligure, un tamponamento in galleria sulla 10 ha provocato 22 km di coda, scontro nel Savonese, due feriti sono in codice verdi, ma le ripercussioni per quanto riguarda il traffico sono state significative. L'incolonamento è passato da 22 km sino a 6 nella tarda serata tra Spotorno e Albissola in direzione Genova. Il tratto in cui è venuto l'incidente è gestito da Autostrade dei Fiori. Poi ci sono stati altri 4 km tra finale Spotorno in direzione Genova e rallentamenti per un chilometro tra Alberga e Andorra in direzione Francia. In questi ultimi due casi le cose sono generate da cantieri. E anche questa notte, naturalmente, per consentire lo svolgimento degli interventi di manutenzione, ci saranno delle chiusure temporanee lungo le autostrade Liguri. Nella notte tra mercoledì e giovedì chiude il tratto tra Genova Est e il Bivio a 12 a 7 Milano Genova dalle 22 alle 6 di domani. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. L'informazione torna domani mattina alle 7.30 con il Tg Rassegna Stampa condotto da Marco Revello e poi alle 12.45 con la prima edizione di Tiguglio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.